Alleluia, 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 Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo, colui che viene dall'alto e al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi però ne accetta la testimonianza, certifica che Dio è veritiero. Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo spirito senza misura. Il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui. Cari fratelli e sorelle, bentornati. Il Vangelo di oggi ci mostra la comunione tra il padre e il figlio. Infatti Dio ha dato al figlio tutto. E il figlio, dopo essersi fatto uomo, ha dato testimonianza alla verità, soprattutto con l'obbedienza al padre. Questa verità che ci viene rivelata da Gesù deve essere da noi accolta. Sono pochi però quelli che l'accolgono e che percorrono la via stretta. Invece, sono molti quelli che percorrono la grande via della perdizione. Nella scelta, Dio ci lascia liberi. Siamo noi a scegliere se obbedire e accogliere la verità, oppure se rifiutarla. La differenza tra l'accogliere o il rifiutare non sta nel dire sì solo con la bocca. Infatti, non chi dice Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma consiste in un'obbedienza, un fiat totale della persona con la sua vita. Abbiamo due grandi esempi nel Vangelo, Maria e Giuseppe. Il loro sì non è stato solo verbale, ma ha incluso un'obbedienza totale della loro vita, affidandosi così nelle mani di Dio. Concludendo, preghiamo il Signore affinché ci aiuti ad accoglierlo nella nostra vita, non solo a parole, ma a testimoniarlo con le opere.